Ad eccezione di Giuliano Vagnonese, rinviata su richiesta della squadra molisana, due in casa e una in trasferta alle altre abruzzesi di Serie D. Iniziamo da chi viaggia. L'Avezzano andrà a fare visita alla capolista Cesena, gara ad alto rischio per i marsicani che tra l'altro saranno senza attaccanti di ruolo, viste le assenze degli indisponibili Padovani e Bisegna, senza contare da eramo ceduto in B allo Spezia. Per il tecnico Giampaolo sarà insomma un bel rompicapo per allestire un fronte d'attacco capace di impensierire la corazzata del girone. La partita inoltre è considerata a rischio. Il prefetto della provincia di Forlice-Sena ha fissato rigide misure di sicurezza dopo i disordini avvenuti durante la gara di andata che portarono al ferimento di quattro poliziotti e diversi provvedimenti di daspo tra i tifosi. Il notaresco ospiterà il Castelfidardo, fanellino di coda del girone, una ghiotta opportunità per la squadra di Cudini di tornare al successo che manca da sette turni, precisamente da 14 novembre 2-1 sul Pineto. Gara particolare per tre, l'ex Minella l'anno scorso a Castelfidardo e Di Lollo e Petrarulo fino a dicembre con il notaresco. Infine la vastese che riceverà all'Aragona la vice capolista matelica. L'avversario non è certo dei più morbidi per bissare il successo interno con l'agnonese. Tuttavia la mission di questo girone di ritorno per i biancorossi è quella di fare decisamente meglio dell'andata. Il tecnico Fabio Montani avrà tutti disponibili eccetto l'infortunato Giampaolo.